Moriva il 14 luglio 1789 nel giorno della presa della Bastiglia, Oscar François de Gergé, forse la conosci, come Lady Oscar. Una giovane donna cresciuta come un uomo, addestrata come un soldato in un'epoca in cui i ruoli di genere erano rigidamente definiti. Immagina la determinazione, il coraggio necessari per affrontare le convenzioni sociali e vivere la vita che si desidera. Il manga di Lady Oscar, creato da Ryoko Ikeda, è stato pubblicato per la prima volta nel 1972. La storia si sviluppa nel contesto della rivoluzione francese, offrendo una prospettiva unica sugli eventi storici di quel periodo turbolento. Lady Oscar è un personaggio complesso, con un profondo senso di giustizia e un'anima combattiva, ma non è l'unica figura memorabile. Ogni personaggio, dai protagonisti ai comprimari, ha la sua storia e il suo impatto sulla trama complessiva. Il manga esplora anche tematiche sociali e politiche, come l'uguaglianza, la lotta di classe, la corruzione del potere. Queste riflessioni critiche contribuiscono a rendere la storia di Lady Oscar ancora più coinvolgente e rilevante. Lady Oscar è un simbolo di forza e resilienza. Ha dimostrato al mondo che l'identità di genere non dovrebbe mai essere un ostacolo per perseguire i propri sogni. Ha sfidato gli stereotipi imposti dalla società, dimostrando che una donna può essere forte, coraggiosa e indipendente come qualsiasi uomo. Ricordo ancora il momento in cui Oscar ha indossato l'uniforme militare e il suo sguardo fiero e determinato mentre camminava tra i soldati. È stata un'immagine potente. Ha dimostrato che una donna può essere una leader carismatica e un esempio per gli altri, rompendo le catene che limitano il potenziale femminile. Ma non è solo il suo coraggio che ci ha conquistato, Lady Oscar ci ha insegnato anche l'importanza della compassione e dell'amore incondizionato. Ha protetto e difeso coloro che amava, dimostrando che una donna può essere sia una guerriera temibile che una figura premurosa. Oscar era una delle confidenti più strette della regina Maria Antonietta e questa amicizia così profonda ha mostrato che la forza di Oscar non risiede solo nella sua abilità come soldato, ma anche nella sua capacità di connettersi emotivamente con le persone, di sostenere coloro che ama. Inoltre la storia d'amore tra Lady Oscar e Andrè è uno degli elementi più toccanti dell'intera narrazione. Nonostante le barriere sociali e le circostanze avverse, i due si innamorano perdutamente, anche se lui, innamorato da sempre, lei se ne accorta troppo tardi. Questo amore proibito e struggente ha catturato il cuore di molti spettatori che si sono ritrovati a tifare per la felicità di Oscar e Andrè. Non è spoiler, ma la morte prematura di Lady Oscar è stato un momento di grande impatto emotivo nella serie. Il suo sacrificio per proteggere la regina ha dimostrato la sua lealtà e il suo senso del dovere fino all'ultimo rispiro. È un evento che ha segnato profondamente i fan e ha reso Lady Oscar ancora più iconica. Ma il vero impatto di Lady Oscar va oltre la serie stessa. Il suo personaggio ha ispirato generazioni di persone ad abbracciare la loro individualità, a lottare per i propri sogni e a sfidare le ingiustizie. Ha dimostrato che le donne possono essere forti, coraggiose e determinate, lasciando un'eredità duratura nel mondo dell'animazione e oltre. Quindi ancora oggi possiamo riflettere sulle lezioni che Lady Oscar ci ha insegnato. Ci ha mostrato che l'identità di genere non dovrebbe limitare le nostre aspirazioni e che il coraggio e l'amore possono superare qualsiasi ostacolo. Ci ha insegnato che la libertà e la giustizia sono valori fondamentali da difendere anche a costo della propria vita. È stata un faro di speranza e ispirazione per tante persone che si sentivano limitate dalle aspettative della società. La storia di Lady Oscar ci ricorda che ogni individuo ha il diritto di esprimersi e di vivere la propria vita autenticamente. È un messaggio che risuona ancora oggi, in un'epoca in cui la lotta per l'uguaglianza di genere e l'accettazione delle diversità sono più importanti che mai. Lady Oscar è un personaggio che resterà per sempre nei nostri cuori, un simbolo di forza, coraggio, libertà. Io spero solo che la sua storia continui a ispirare e a incitare le persone a lottare per un mondo migliore, proprio come ha fatto lei.